del Maurizio Costanzo Show del 5 novembre 2022, ha ammesso di avere avuto un legame con l'attrice Giovanna Ralli in gioventù, probabilmente nei primi anni 60. Maurizio Costanzo che nel corso delle sue più recenti interviste ha confessato di vivere da anni, con un timore opprimente, non temo di morire, ma di restare per tanto tempo malato in un letto questa alla rivelazione fatta qualche tempo fa durante un'intervista per Grazia. Superati gli 80 anni il popolare conduttore ha reso noto che non ha paura della morte, ma di vedersi spegnere costretto in un letto, mentre lui vorrebbe poter dire addio alla vita sereno e felice al fianco di sua moglie, alla quale è profondamente legato dopo più di 20 anni di matrimonio. Grazie per la visione!